Potete entrare. Buongiorno, cancelliere. Buongiorno a vostro onore. Buongiorno, avvocato. Non mi pare di averti detto di sederti. No, no, prego, avvocato. Togli le mani dalle tasche e mettiti vicino alla porta, grazie. Lei può sedere, agente. Non ti appoggiare. Sei qui per una prima valutazione. Come sai, sarai giudicato più avanti. Il 12 aprile si è stato accusato a Dunkerque all'interno del territorio nazionale del reato che non prevede prescrizione di sottrazione di un'auto ai danni della signora Renault, con l'aggravante che il furto è stato commesso con violenza ma non ha causato invalidità. Nello specifico strappando le chiavi dalle mani della vittima, facendola cadere mentre stava salendo sulla sua auto. Reato previsto e punito dagli articoli 311,1 e seguenti del codice penale. Hai tre possibilità. Il diritto al silenzio, le dichiarazioni spontaneo... Non si affatichi, lo so già. E non mi devi nemmeno interrompere. Stai davvero mostrando il peggio di te. Io l'ho detto per lei, così non si stanca. Non pensare alla mia stanchezza, ma rifletti sulle tue azioni. La terza possibilità è che rispondi alle domande. La seconda. Bene.